Bruce Willis sta sempre peggio e ormai non riesce più a parlare. Le condizioni di salute dell'attore, che ha 67 anni, si stanno deteriorando a causa di un disturbo invalidante e in fase di progressiva accelerazione. Una fonte rimasta anonima ha rivelato al sito statunitense radaronline.com che Willis sembra non capire molto di quello che gli dicono gli altri. L'attore, che nel marzo scorso aveva annunciato il ritiro dalle scene, starebbe trascorrendo il periodo prenatalizio con la sua famiglia, la moglie Emma Heming e le loro due figlie, Mabel di 10 anni e Evelyn, 8. La malattia ha riportato vicino all'attore anche l'ex moglie Demi Moore, con cui è stato sposato per 11 anni e da cui ha avuto tre figlie, Rumer, 34 anni, Scout, 31, e Tallulah, 28. Tutte loro, sempre secondo radaronline.com, sanno che Bruce non ci sarà per sempre, così stanno godendo di ogni singolo momento insieme. Secondo la fonte, Emma è la sua voce e il suo mezzo di comunicazione, ci sono giorni in cui si vedono scorci del vecchio Bruce, ma sono brevi e sempre meno frequenti. Sembra che stia scivolando sempre più lontano. Le ragazze, ha detto ancora l'anonimo informatore, non possono immaginare.